Poracci il gioco era il bellissimo Slaps and Beans e chi era in live l'altra sera saprà bene che Don Matteo è la nuova wave del canale, no? Alessandro è stato il più veloce di tutti mentre Gabriele omaggia i maestri italiani dei cazzotti con quello che è il manifesto Poraccio, altrimenti nerdiamo duro, bravissimo! Ma bene andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza provare minimamente caldo. Sto benissimo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo del potenziale ritorno di un capolavoro dell'era Nintendo 64 su Xbox e forse anche Switch. Poi del tanto rumoreggiato Wumpa League e anche della pessima situazione in cui si trova Sonic Frontiers. Prima di iniziare però come al solito vi invito a darvi una bella rinfrescata e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione, io ho detto tutto. Bene, iniziamo! Prima di tutto partiamo con qualche notizia al volo. Siete in hype per la Summer Game Fest? Beh, tenetevi forte perché è stato lo stesso Jeff Keighley ad affermare che per quest'anno non dobbiamo aspettarci nulla di che. Andata così. Giuro, non me lo sarei mai aspettato dal buon Jeff, anzi da quel brutto Jeffo, ma per l'evento che si terrà questo giovedì alle ore 20 è stato chiarissimo. Ci saranno sì world premiere, approfondimenti sia su titoli AAA che giochi indie, ma ha consigliato al suo pubblico di non volare troppo in alto con le aspettative. Keighley ha infatti confermato che si parlerà di titoli attesissimi come il DLC di Cuphead, Gotham Knights, Callisto Protocol e Modern Warfare 2, ma non si tratterà di un evento ai livelli dei The Game Awards e quindi molti dei rumor che riguardano il suo show sono in realtà fuori controllo. Quindi poracci se lo dice il buon Jeff direi di fidarci, no? Non aspettatevi roba incredibile né da Nintendo né da Microsoft e direi neanche da Sony. Però l'evento ce lo seguiremo ovviamente in diretta sul sito Viola, vi voglio belli carichi, anche perché chi parte con le aspettative basse più difficilmente rimane deluso. E intanto Microsoft ha confermato un secondo evento, sì perché se lo show principale di Microsoft e Bethesda avrà luogo il 12 alle 19 ora italiana, due giorni dopo, il 14, ci sarà una sorta di secondo appuntamento di approfondimento di quanto visto in precedenza. Aspettatevi quindi trailer estesi, commenti dagli sviluppatori e una durata complessiva di circa 90 minuti. Ovviamente anche questo non ce lo lasceremo scappare. E visto che oggi parleremo un po' di fallimenti clamorosi, porca miseria poracci se Blizzard ha sbagliato alla grande con Diablo Immortal. Il contestatissimo esordio della storica saga su mobile era partito nel peggiore dei modi possibili, sin dal suo annuncio, ma ora che il titolo è finalmente disponibile, solo su cellulari ma presto anche su PC, la verità è venuta a galla. Il sistema di monetizzazione inserito da Blizzard è complesso e scandaloso e tira fuori il peggio che ci si può aspettare da un free to play. Infatti analizzando le varie valute c'è chi è arrivata alla conclusione che per portare un personaggio nel postgame al massimo delle statistiche possibili bisognerebbe investire circa 110.000 dollari alla faccia del free to play. Ovviamente il gioco già partiva col piede sbagliato, ma vi potete immaginare quali sia stata la giusta reazione della community sui siti come Metacritic. Staremo a vedere come Blizzard deciderà di gestire la situazione per Diablo Immortal, anzi Diablo Immoral. Ma bene poracci passiamo alle notizie del giorno perché ancora una volta si torna a parlare di 007 GoldenEye, un titolo che non solo ha scritto la storia del Nintendo 64 ma dei videogiochi in generale. E a quanto pare siamo sempre più vicini al suo possibile, anzi ormai direi praticamente certo, ritorno. Sebbene GoldenEye sia uno dei giochi più noti dell'epoca, non è mai stato ripubblicato ufficialmente. I diritti del gioco infatti sono contesi tra Rare, quindi Microsoft, Nintendo e MGM, la casa di produzione che aveva prestato la proprietà intellettuale di 007. Ormai è certo che durante l'era Xbox 360 ne fu preparata una riedizione in HD e che il progetto fosse pronto per essere pubblicato su Xbox Live Arcade, ma a quanto pare Nintendo si tirò indietro all'ultimo. A inizio anno abbiamo visto come i rumor riguardanti la pubblicazione di questa versione si facevano sempre più insistenti, però di nuovo sembrerebbe che la guerra tra Russia e Ucraina abbia fatto rimandare la pubblicazione della remaster, visto i temi trattati all'interno del gioco. Ora però è stata liccata la lista intera degli achievement che sono apparsi proprio sul sito Xbox. Inoltre, grazie al sito True Achievements, sappiamo che un impiegato Rare ha sbloccato proprio in questi giorni un obiettivo interno al gioco. Se andiamo a vedere le immagini che accompagnano questi achievement, la grafica ricorda molto quella del Nintendo 64 e forse questo si tratta di un omaggio, ma poracci, per me i pianeti si stanno allineando. Quest'anno il franchise di James Bond compie 60 anni e mancano pochissimi giorni alla conferenza Xbox. Che sia finalmente giunto il momento di pubblicare questa remaster pronta dal 2007? Inoltre Nintendo potrebbe approfittare della situazione per far arrivare questa versione su eShop, oppure magari rilancerà il catalogo Nintendo 64 del pacchetto aggiuntivo con una nuova ondata di titoli partendo proprio da 007 GoldenEye. In fondo manca Pokémon Snap e poi siamo arrivati. Ne sapremo qualcosa di più al Direct? Come al solito, fatemi sapere la vostra nei commenti. E intanto si torna a parlare anche di Crash 5, o meglio di Wumpa League, il progetto di cui si rumoreggia ormai da più di un anno, credo, ma di cui in realtà non si sa nulla. Attenzione però perché forse la situazione si sta sbloccando, ma le cose potrebbero andare diversamente dal previsto. Dopo un trionfale ritorno con la Ensign Trilogy ci si aspettava un destino diverso per la saga di Crash Bandicoot, e invece il quarto capitolo, nonostante l'ottima ricezione da parte della critica, non ha saputo conquistare il pubblico. I fan più competenti parlano di un gioco eccessivamente difficile che tradisce in parte lo spirito della serie e aliena tanto i nuovi giocatori quanto gli appassionati di vecchia data. Toys for Bob però non si è mai data per vinta nonostante le numerose difficoltà, tra cui in primis la volontà di Activision, il publisher che aveva chiaramente altri piani in mente per lo studio. Quindi c'è questo nome Wumpa League che aleggia da un bel po', un progetto che è sulla bocca di tutti ma di cui in realtà non si sa nulla. E anche un'occasione come il venticinquesimo anniversario della serie, che sarebbe stata perfetta per dare maggiori informazioni sul progetto, in realtà non è stata sfruttata. Però a rompere il silenzio questa volta ci ha pensato il giornalista di Windows Central, Jets Corden, che durante il podcast settimanale sul canale YouTube ha dichiarato di essere a conoscenza di un nuovo progetto con protagonista Crash ma di cui non ricorda il nome, molto probabilmente sarà Wumpa League. Il gioco a quanto pare non sarebbe un platform ma più che altro un'arena brawler a quattro giocatori, una sorta di smash ma ovviamente in salsa bandicoot. Secondo Corden l'annuncio sarebbe imminente, addirittura durante la prossima settimana. Che l'evento Microsoft sia il palcoscenico pensato per questo reveal? Che dire, non so come prendere questa eventualità, un po' la prospettiva mi spaventa e non vorrei che fosse la mossa definitiva per affossare un brand che si sta rialzando con molta fatica. Non lo so, abbiamo veramente bisogno di un Crash Bash 2? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E purtroppo, poracci, bisogna tornare a parlare di Sonic che ancora una volta è nel mirino dei fan. E dopo il casino immenso che era successo con il trailer del primo film e Ugly Sonic, ci risiamo, il pubblico richiede a gran voce il rinvio del prossimo progetto con protagonista la mascotte Sega. Io poracci continuo a vederci del potenziale in Sonic Frontiers, ma forse solo perché mi aspettavo molto di peggio, avendo seguito il progetto sin dai primi preoccupanti report avvenuti durante le sessioni segrete di playtesting. Al pubblico però non è proprio andato giù questo open world di Sonic e anche il trailer dedicato al combattimento ha generato reazioni estremamente negative, se possibile ancora peggiori di quelle avvenute con il primo filmato di gameplay. Il problema è che, come molti di voi mi hanno fatto notare nei commenti, sembra veramente ritrovarsi di fronte a poco più di una bozza, un pre-alpha che difficilmente riuscirà a concretizzarsi in qualcosa di degno entro la fine dell'anno. Perché non dimentichiamoci che Frontiers è ancora previsto per il 2022, e noi siamo già a giugno. Quindi, proprio come è accaduto con Ugly Sonic e il primo agghiacciante trailer del film, i fan stanno chiedendo a gran voce il rinvio del progetto al 2023, anzi proprio a data da destinarsi, e in modo anche abbastanza veimente. Alcuni hashtag sono addirittura entrati in trending su Twitter. Quindi, riuscirà ancora una volta la fanbase a salvare la pellaccia Sonic, oppure dobbiamo rassegnarci anche questa volta al triste destino di un Sonic in 3D deludente? Io sarò ottimista, ma qualcosa di positivo nel primo trailer ce lo vedo ancora. Però fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. In questo paraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Anche se non rispondo, vi leggo a tutti quanti. Fate bravi. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera, per una nuova live sul sito Viola alle 22, altrimenti domani con un nuovo video. Voi, in ogni caso, mi raccomando, tassativo. Fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Sonic, Michele Golden, gottago poro, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! No, 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 no